Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic qui con un nuovo video del Se Fossero su FIFA 15 Sono contento che stia piacendo questa serie, che interagiate sempre di brutto Quindi continuate a farlo, lasciate un bel mi piace, un commentino eccetera eccetera Stavo pensando, visto che comunque i giocatori che più mi premeva fare in questa serie li ho fatti E visto che voi continuate a consigliarmi un sacco di leggende sotto nei commenti ogni episodio Volevo trasformare questa serie in un Legend Prediction Abbandonando i giocatori che ormai li ho già fatti, quelli che mi interessavano e comunque quelli più importanti E rendere questa serie una serie incentrata solo ed esclusivamente sulle leggende che dovrebbero creare su FIFA Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate, ci sarebbero tre leggende a episodio E quindi se vi piace l'idea potremmo trasformarla così questa serie Comunque cominciamo subito senza perderci in chiacchiere con il primo giocatore di oggi Stiamo parlando di Aleksandar Dragovic, giocatore della Dinamo di Kiev, quindi gioca in Ucraina È un giocatore austriaco che prima giocava nel Basilea fino al 2013 ha giocato nel Basilea È un giocatore abbastanza giovane, molto buono, che ha una carta come potete vedere abbastanza interessante Se fosse Argento sarebbe veramente spettacolare come carta Però è oro 75 che tra l'altro su FIFA è tra gli svincolati ed ha un potenziale di 81 Quindi anche per la carriera è sicuramente un ottimo giocatore Quest'anno ha fatto in 29 partite un gol E è stato comunque anche accostato all'Inter quest'estate come possibilità di trasferimento all'Inter Quindi passiamo invece al secondo giocatore di oggi Stiamo parlando di un giocatore che gioca in Serie A Cioè Papu Gomez, Alejandro Gomez dell'Atalanta Che si è trasferito appunto nell'Atalanta, mi pare, ad agosto Sì, primi di settembre per 5 milioni Giocatore che io ho dei buoni ricordi di Papu Gomez quando giocava nel Catani Anzi, era davvero un ottimo giocatore Quest'anno ha fatto solamente due assist in 15 partite Comunque sia questa sarebbe la sua carta su Ultimate Team Che non è il massimo, pensavo qualcosa di più soprattutto nel tiro Però comunque sia non è malaccio, un'ottima velocità, un ottimo dribbling Un discreto passaggio, comunque 4 stelle abilità 4 stelle piede debole Non so se è presente su FIFA, magari con qualche aggiornamento Ovviamente non su Ultimate Team Però se dovessero fare la carta questa sarebbe Vedremo comunque l'anno prossimo se continuerà a giocare ovviamente nell'Atalanta Che carta sarà Andiamo invece con la leggenda di oggi È una leggenda che dovevo assolutamente fare Perché praticamente in tutti me l'avete chiesta Stiamo parlando di Avia Zanetti Leggenda dell'Inter, eccetera, eccetera Zanetti, questa sarebbe la sua carta che io ho previsto Spero che lo facciano subito leggendo perché penso che se lo meriti assolutamente Questo giocatore che ha vinto nella sua carriera un Mondiale per Club 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiana Una Champions League, 5 campionati e una Coppa UEFA Vabbè, questi sono dati Lui in più di 800 partite giocate ha fatto 17 gol e 12 assist Comunque è una bandiera dell'Inter, bandiera del calcio sicuramente mondiale Non so se queste statistiche possono essere giuste Io penso che la maggior parte di esse lo possano essere tranquillamente Gli ho messo anche 88 di overall Fatemi sapere voi tifosi interisti se mi volete uccidere Perché ho fatto delle statistiche non all'altezza O se comunque sono giuste Fatemi sapere ovviamente nei commenti Tutti voi fatemi sapere nei commenti Comunque raga, il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Oltre che ai giocatori di oggi Se vi piacciono o no Cosa fare di questa serie Se trasformarla come ho detto all'inizio video In un Legend Prediction Oppure continuare così come sto facendo adesso Ovviamente lasciate un bel pollice in su Un bel mi piace 400 mi piace uscirà un nuovo video Iscrivetevi al canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link come sempre li trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga